. Uomini e donne News, è ufficiale, Claudio e Mario sono tornati insieme. News Uomini e donne trono gay, Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme. . Regalo di Natale per tutti i telespettatori di Uomini e donne, Claudio e Mario sono tornati insieme. Dopo i gossip degli ultimi giorni, i protagonisti del trono gay hanno confermato su Instagram il ritorno di fiamma. Prima Serpa con un video nel quale bacia l'ex tronista e poi Sona con una foto con il suo ex corteggiatore a clima natalizio. Come scritto nella didascalia, la coppia si sta godendo la ritrovata passione a Berlino, dove si sono recati per festeggiare il Natale insieme. . A un anno dalla rottura, dunque, i Clario si sono riconciliati e i fan che non hanno mai smesso di credere al loro amore sono al settimo cielo. . I dettagli della riappacificazione sono al momento sconosciuti ma chissà che i due non li svelino presto in tv e magari proprio alla corte di Maria De Filippi dove questa tormentata storia d'amore ha avuto inizio. . 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